buongiorno a tutti a dicembre sono svolti i nostri golden domus la seconda edizione di questo fantastico evento annuale che non è un evento solamente ma è a tutti gli effetti una gara che dura un anno intero credo che questo sia il tipico caso in cui una crescita costante poi porta a grandi risultati come quelli ottenuti quest'anno in un anno sicuramente fuori dal comune dove ritengo l'agenzia con il suo sales manager con solo dei manager ma con tutti i componenti dell'agenzia ha avuto uno sviluppo veramente importante importante cambiando tante delle loro abitudini e attuando nuove strategie che l'hanno portata alla vittoria di questo ambito premio io adesso vorrei chiedere farti una domanda nicola se puoi raccontare quest'anno grazie a cosa siete riusciti a vincere perché questo è forse la domanda che tutti noi ti vorremmo fare qual è stato il mix di attività di strategie che secondo te ti hanno portato alla vittoria buongiorno a tutti buongiorno andrea e allora parto dal dalla convention precedente dalla convention del 2019 dove con paolo ci siamo promessi ed era una promessa che poi ovviamente doveva essere supportata dai fatti durante tutto l'anno una promessa di di vincere il golden domus quindi di vincere il premio come miglior agenzia e dal primo dal primo dicembre perché come detto tu la la gara parte dall 1 dicembre dal primo dicembre abbiamo fatto di tutto abbiamo prestato attenzione nelle nostre attività e soprattutto nel gestire il team nel gestire il gruppo di lavoro per far ottenere dei risultati a tutti e durante la mh il periodo insomma che abbiamo vissuto ehm di marzo mi ricordo che tu hai attuato delle strategie che penso che forse proprio quelle hanno portato un forte contributo assolutamente sì diciamo che la svolta penso ci sia stata proprio in quei due mesi di lockdown a casa dove eh sin dall'inizio abbiamo eh con abbiamo preso con consapevolezza eh questo questo blocco che dovevamo avere quindi dovevamo modo diverso di lavorare quindi iniziare a lavorare da da casa e sin dai primi giorni abbiamo iniziato a fare delle riunioni mattutine delle riunioni mattutine che eh ci portavano comunque a eh fare delle attività giornalieri diverse da quelle che eh eravamo abituati a fare ma comunque eh il nostro obiettivo era tenerci in allenamento cioè continuare a fare delle attività seppur diverse ma sempre rivolte a quella a quell'obiettivo sì poi credo pure la grande relazione con i clienti perché si è stati molto attenti anche in quel periodo lì a rimanere in contatto a far vedere casa a proporre immobili agli acquirenti a trovargli anche eh delle soluzioni magari ricontattando altri proprietari che ancora non hanno deciso di vendere quindi credo che eh anche sia stato apprezzato dalla vostra clientela sicuramente eh questo aspetta sì e tra l'altro apro una piccola parentesi abbiamo venduto degli immobili che magari nell'anno prima c'erano c'era scaduta la l'incarico e sono stati ripresi e venduti quindi ecco diciamo eh che dove in teoria verrebbe da dire eh che l'anno precedente forse poteva apparire come l'anno più giusto invece proprio in un momento che fosse anche il vostro atteggiamento differente determinato ha portato anche ai risultati diversi questo pure un po' viene un anche un piccolo insegnamento che eh a volte quando cambia un po' la nostra mentalità rispetto a una situazione magari applichiamo delle piccoli correttivi anche nella gestione di un rapporto eh con un proprietario con un acquirente e riusciamo a raggiungere dei risultati eh sempre più eccellenti ma c'è una domanda a Paolo perché eh il vostro dialogo mi ricorda pure eh il dialogo eh con Paolo eh nel nel suo nel suo primo anno come agente e avevamo detto l'anno prossimo ti vogliamo eh tra i primi e poi infatti quell'anno lì cioè lo scorso anno ha vinto eh due premi e sei diventato anche eh team manager diciamo che le sfide sicuramente vi piacciono entrambe entrambi stanno eh com'è stato prendere questo ruolo e riuscire chiaramente anche a rapportarti con quelli che prima erano colleghi in fondo tu diventavi eh un riferimento anche per loro eh cosa hai fatto nell'affrontare il nuovo ruolo in un anno del genere per l'agenzia? Ma guarda Andrea eh certamente è stato un momento di cambiamento diciamo che comunque eh già da metà del duemiladiciannove era un po' un punto di riferimento poi ovviamente con la nomina da team manager durante la serata Golden Domus senza dubbio c'è stato un cambiamento eh da parte mio e da parte del team perché poi fondamentalmente mi ricollego a quello che diceva Nicola c'è stato subito il lockdown e devo dire che ci ha un po' aperto la mente questo lockdown ci ha aperto la mente che poi ci ha portato a vincere quest'anno perché abbiamo attuato tutte delle strategie abbiamo aumentato la nostra attività di un trenta per cento facendo attività differenti e quindi questo poi quando abbiamo avuto il blocco lo sblocco da maggio eh abbiamo riportato tutte queste attività quindi abbiamo continuato con con un trenta per cento in più di attività che poi ci ha portato a vincere come come gruppo devo dire che ricordo che avete fatto un come diciamo prima lato acquirente ma anche un forte lavoro lato comunicazione migliorando sicuramente la presentazione degli immobili eh la pubblicità degli stessi e quindi la possibilità per gli acquirenti di avere ehm di poter vedere degli annunci sempre più interessanti la prima cosa che mio primo ricordo è stato quello andiamo a fare virtual tour su tutti gli immobili cioè è stata la priorità di maggio alla fine che questo ci ha portato anche poi a concludere delle trattative anche in un attività le avevate una buona parte già le avevate abbiamo aggiunto degli altri abbiamo curato i dettagli diciamo in quei giorni dove magari avevamo un po' più di tempo più lucidità sul eh lavorando da casa c'era più tempo più lucidità ecco io penso che dalla vostra testimonianza poi esce fuori un aspetto che per arrivare a ottenere dei buoni risultati eh o come questi che avete ottenuto voi eccellenti c'è bisogno di tanto allenamento e di cura dei particolari penso eh che siate veramente l'esempio di di ciò che serve eh fare per eccellere in qualsiasi professione stiamo parlando delle nostre agenzie immobiliari ma in generale eh serve la costanza serve l'allenamento e la testa aperta per captare come cambia il mercato e adottare interventi adottarsi sì assolutamente bene allora complimenti eh so che state già iniziata è già iniziata la battaglia per il 2021 vedo Milano Centro agguerrita ci sono anche altre agenzie agguerrite eh ma voi vi vedo molto determinati quindi vediamo se ci sarà il bis eh ci rivedremo fra un anno sempre con queste interviste sicuramente eh Nicola se vuoi lasciare un messaggio per chi per chi vuole arrivare a vincere a qualsiasi in qualsiasi categoria. Sottolineo quello che ha detto Paolo adesso la costanza cioè il eh tutti i mesi bisogna essere tra tra i primi cioè primo o tra i primi. Bene e allora buona giornata a tutti e a presto. Buona giornata. Buona giornata. Ciao Paolo. Ciao Nicola. Ciao.